Sono arrivati da tutta Italia allievi ed artisti professionisti di danza storica in eleganti abiti d'epoca originali e restaurati per la prima volta nel Cilento per ballare la danza dei manuali della buona società di metà ottocento con coreografie originali dell'ottocento francesi, scozzesi, inglesi e russe. Il gran ballo delle sirene alla corte dei Borboni si è tenuto lo scorso 14 settembre al Palazzo Baronale di Torchiara nell'ottocentesco Salone degli Specchi. Questa sinergia è nata da un'amicizia con il nostro amico Palazzi che faceva parte di questa compagnia che è una compagnia italiana di grandissima qualità. I ballerini sono arrivati da tutta Italia, da Genova, da Roma e io sono molto da Napoli, io sono molto fiera di questo perché il nostro paese si anima sempre più con attività di grande richiamo culturale perché questa è la sua natura, nella sua storia e quindi è giusto vivere un presente rinnovando la nostra tradizione e quindi anche dando poi un testimone per il nostro futuro. Io conosco personalmente Angela Riccio la quale sapeva, anzi ho partecipato a un'altra bella iniziativa di carattere culturale in parte con la danza che io ho realizzato alla Reggio di Caserta due anni fa, una ricostruzione storica delle vicende attraverso una pièce che io scrissi sulla fine del regno e poi da un gran ballo e Angela Riccio è intervenuti e mi ha chiesto rincontrandoci se potevo organizzare un evento culturale se non proprio di quel genere un ballo qui a Torchiara, questa bellissima località del Cilento e l'abbiamo chiamato il ballo delle sirene perché ovviamente questo è il golfo delle sirene, l'eucosia eccetera. Come può vedere abbiamo invitato la miglior nobiltà del nostro territorio a partecipare a questa grande festa, questo ballo delle sirene, veramente sono onorato e orgoglioso di avere qui questa compagnia di danza con i loro costumi bellissimi, costumi originali tra l'altro quindi dell'epoca e vedremo sicuramente uno spettacolo di grande emozione ed è questo quello che andiamo cercando quando organizziamo questi eventi. E oggi qui per il gran ballo delle sirene vedremo una serie di dame e cavalieri provenienti un po' da tutta Italia, dal nord, dalla Liguria, dalla Lombardia ma anche dal Lazio e dalla campagna alcuni e alterneremo waltzer corali, quadriglie, contraddanze, mazzurche, polche polonese. Dietro c'è una fatica grande, riunire persone che vengono anche da realtà diverse, spesso sono anche signori e signore che nella vita fanno altro e cercare di catapultarli in una realtà il più professionale possibile. Io sono ballerina di professione ma loro nella vita ognuno ha il proprio mestiere e devo dire che hanno tutti una grande passione e una grande attenzione a quello che si insegna. Anche sull'abito c'è un bello studio perché bisogna cercare di riprodurre come erano all'epoca il più possibile fedeli, quindi senza utilizzare colori troppo sgargianti o paillette troppo vistose. Si spera che sia il primo di una serie di appuntamenti con cadenza annuale, addirittura c'è anche la proposta di fare delle masterclass, degli stage per portare questa tradizione perché le nostre danze vengono riprese dai manuali d'epoca, quindi c'è anche dietro uno studio filologico proprio per riportare in vita una tradizione che era nostra e che stava andando perduta.